Nel 1990 a Hockenheim, l'ultima gara, lì c'era la possibilità di tre piloti per vincere il campionato. C'ero io con la BMW, c'era Ludwig con la Mercedes e Stuck con l'Audi. Alla Mercedes avevano messo uno squadrone di auto e di piloti in più e alla prima curva Schumacher ha pensato bene di cacciarmi fuori perché mamma mia ha proprio cercato, è andato perfino sull'erba a tagliare la curva per centrarmi. Si vede che quello era il suo lavoro che doveva svolgere e purtroppo ho perso il campionato, l'ultima gara, l'ha vinto per fortuna Stuck e non la Mercedes.